Allora passiamo poi ai segni mobili, l'ultimo gruppo, che sono i segni dove si chiudono le stagioni, quindi sono i gemelli che chiudono la primavera e preludono all'estate, sono la vergine, ultimo segno d'estate, ma che già ha dentro di sé i primi accenni d'autunno, il sagittale, ultimo segno d'autunno, e i pesci, ultimo segno d'inverno. Allora qua questi segni mobili prendono le qualità dei loro mesi, che sono mesi di passaggio, mesi in cui la stagione finisce ma già somiglia a quella che sta iniziando. Pensate ai gemelli, ultimo segno di primavera, ma giugno è già estivo. Pensate alla vergine, ultimo segno d'estate, ma ha già quell'indole crepuscolare che è proprio dell'autunno, cioè settembre è un mese già autunnale, già un po' il declino autunnale. Pensate al mese di dicembre, il mese del sagittario, è autunnale ma fa un freddo cane. Pensate ai pesci, ultimo mese d'inverno, ma contiene già il germe della primavera. Quindi questi quattro segni hanno proprio la qualità dell'elasticità, dell'adattabilità. Sono una zona di passaggio, i cambiamenti per i segni mobili sono estremamente facili, perché hanno dei confini fluidi. Quello che riesce più difficile per i segni mobili è definirsi, stabilire con certezza, io sono questo e non sono altro, io sono questo è mio e questo è tuo, poi semmai te lo presto ma devo conoscere la differenza. Questo è un problema mio e questo è un problema tuo, poi ti posso aiutare ma non posso viverlo sulla mia pelle come se fosse mio. I segni mobili sono quattro segni che hanno, come dire, l'epidermide sottile, non sono corazzati, sono segni che sono votati allo scambio, alle novità, alle esperienze, all'interazione con gli altri, però definirsi può rappresentare un punto debole. E quindi che cosa è successo? Che negli ultimi cinque anni hanno avuto prima Saturno e poi Giove in una posizione dinamica, perché entrambi sono passati per il Sagittario, quindi entrambi sono passati per l'opposizione con i gemelli, per la quadratura con i pesci e per la quadratura con la Vergine. E questi cinque anni sono serviti proprio per indurirli, per stabilizzarli. Pensate ad un mobiletto di Ikea, mentre lo montate quello è elastico perché si deve assestare bene, quando però poi è finito e tutti i pezzi sono andati al loro posto, si prende la brucola e si comincia a stringere i bulloni, perché se così non fosse il mobiletto non avrebbe la sua tenuta statica, ossillerebbe. E lo stesso hanno fatto prima Saturno e poi Giove con i segni mobili, hanno preso una bella tenaglia e hanno stretto una serie di bulloni, anche dolorosamente. L'hanno portati a doversi, nel caso dei gemelli, l'hanno portati a doversi definire. I gemelli vengono da cinque anni in cui spesso non hanno saputo esattamente chi fossero, non hanno saputo che ruolo darsi, non hanno saputo che posizione assumere, non hanno saputo come inserirsi in un contesto e che tipo di accordi, insomma hanno dovuto proprio ridefinirsi, capire chi fossero. La Vergine negli scorsi cinque anni ha dovuto lavorare a certe fondamenta che toccavano la casa e la famiglia. In qualche modo la Vergine è un segno iper responsabile, iper attento. Se tutti quanti non sono sistemati, non si concede di puntare su se stessa. Negli scorsi cinque anni ha faticosamente dovuto risistemare tutti. Casa, famiglia, compravendite, traslochi, lavori di ristrutturazione infiniti, separazioni complicate, a chi va la casa, come organizziamo i figli. Insomma, cinque anni in cui la Vergine ha dovuto proprio stabilire i punti fermi, ha dovuto consolidare le mura di cinta del suo regno. Il Sagittario negli ultimi cinque anni ha dovuto lavorare sulla propria mobilità, Sagittario segno di fuoco governato da Giove, indulgente, aggregante, inclusivo, ha dovuto imparare a guardare meglio certe situazioni che avrebbero dovuto insospettirlo, ha dovuto imparare a guardarsi meglio le spalle, a non dare fiducia a tutti, ha dovuto imparare a riprendersi ciò che gli era stato tolto, ha dovuto rimandare al militante certe colpe, tant'è che sono tantissimi i segni mobili e i Sagittari in particolare che hanno passato gli ultimi cinque anni davanti a un giudice con delle cause, dovendo far valere un diritto anche per le vie legali o dovendosi difendere da una certa situazione. Per cui lo stesso cosa hanno fatto i pesci, che negli scorsi cinque anni hanno dovuto imparare a mettere insieme ispirazione e realismo, hanno dovuto imparare a fare i conti con la realtà. Hanno imparato che ogni volta che saltavano un passaggio l'operazione sballava e il conto non tornava e quindi ogni volta che si muovevano spinti dall'illusione hanno toccato con mano la delusione. Questo riguarda i segni di pesci, che sono i grandi sognatori, per cui segni mobili cinque anni di grandissima ristrutturazione. Sono stati smontati letteralmente di un pezzo alla volta e sono stati ricostruiti in maniera più solida. Però vorrei fare un piccolo passo indietro. Nel cielo dei segni mobili, ancora prima del 2015, che è l'anno in cui arrivano prima Saturno e poi Giove e cominciano con la brucola a stringere i bulloni, prima, nel 2012, arriva Nettuno. Ed è questo il punto a cui bisogna tornare. Il 2012 rappresenta per i segni mobili la vera scaturiggine. Tutto quello è l'anno che innesca un processo con il quale ancora ci confrontiamo. E lo sto dicendo non solamente perché è lì il punto di partenza che spiega davvero quello che sta succedendo adesso. Nel 2012 che succede? Arriva Nettuno. Arriva Nettuno in pesci. Nettuno è il governatore dei pesci. In questo modo entra in pesci, entra in opposizione alla Vergine, entra in quadratura al Sagittario e ai gemelli. Nettuno è il governatore dei pesci e ha un arco di tempo lunghissimo, per cui pensate che prima del 2012 gli ultimi pesci che hanno visto Nettuno in casa sono stati quelli del 1848, il famoso 48, l'anno delle grandi rivoluzioni, dei grandi sacrifici dell'uomo che si butta a capofitto nell'interesse collettivo. Insomma, Nettuno è quella spinta fortissima a cercare risposte più in alto. È quella spinta ad elevarsi oltre la materialità per cercare qualcosa di più profondo, di più alto, di più elevato. Chiaramente, proprio come il Sacro Graal che tutti cercano e nessuno trova, Nettuno crea una forte... scusatemi, Nettuno crea una forte ispirazione, ma crea anche molta confusione. È come il canto delle sirene, è come il Sacro Graal, per cui è chiaro che da un lato ti spinge a voler fare di più e dall'altro ti porta a una certa confusione sul come fare. Questo per dire che dal 2012 i segni mobili potrebbero aver sentito una forte spinta ad elevarsi al di sopra di certe routine, a sentire che c'era di più, che ci doveva essere di più, che volevano fare di più, che certe situazioni li stavano soffocando e li hanno spinti a cercare qualcosa di diverso. Ed è una dinamica che a me ha fatto sempre pensare, forse l'avrete già sentito, ma io lo ripeto perché comunque è profondamente evocativo. Quella di Nettuno che entra in pesci nel 2012 e che tocca pesci, gemelli, sagittari e vergine, è un transito che mi fa sempre pensare a Into the Wild, quel film in cui lui, dopo la laurea, vende tutto e parte per un viaggio del quale ha bisogno. Del quale ha bisogno per elevarsi da una vita che si preannuncia grigia, che si preannuncia predeterminata, che si preannuncia sfittica, che lo soffoca, per cui riparte per cercare qualcosa che lo emozioni. Nel fare questo però poi si perde. E allora questi transiti così severi di cui abbiamo parlato, queste tenaglie che hanno stretto i bulloni, servivano per i segni immobili, per i gemelli, per la vergine, per i sagittari, per i pesci, per rimetterli sul percorso, sulla strada di un percorso di evoluzione che stanno seguendo dal 2012, ma rimetterceli con una macchina più forte, più solida, che potesse compiere quel viaggio, che non rischiasse di finire fuori strada, affinché il loro viaggio non fosse un viaggio senza ritorno, come quello del film, come dice giustamente Valentina, ma fosse un viaggio con un ritorno a casa con un elisir, perché fosse un perdersi per ritrovarsi e non un perdersi e basta, perché tutti quegli scenari che sei riuscito ad abbracciare con quel viaggio, poi dopo li porti a terra, perché tutte quelle ispirazioni poi diventino progetti concreti, perché tutto quel voler andare più in alto, poi si traduca in una vita che funzioni e non solo in una situazione in cui sei disorientato. E quindi questo cielo, negli ultimi anni, per i segni immobili, si potrebbe chiamare Into the Wild con il viaggio di ritorno, con il viaggio di ritorno a casa con l'elisir, e quindi non dovete pensare, appunto, la morte di Into the Wild è una trasformazione metaforica, ma poi soprattutto l'arrivo di quel Saturno così severo nel 2015, seguito poi da Giove nel 2017, ha proprio il 2018, ha proprio il senso di non farti smarrire la via, perdersi per ritrovarsi. Quel cielo degli ultimi cinque anni per i segni immobili ha avuto proprio la spinta di quel faro che ti porta a ritrovare la strada e che ogni volta che stai allontanandoti ti ci rimanda a suon di sberle, ogni volta che i segni immobili negli ultimi anni hanno perso di vista il realismo, la concretezza, la regola, la definizione, hanno preso sotto gamba certe situazioni, hanno preso da Giove e Saturno una sberla, ma quella sberla serviva proprio a rimetterli sulla carreggiata e serviva proprio ad evitare che il loro viaggio fosse come quello di Into the Wild, cioè serviva a fargli trovare la via del ritorno. E quindi tutto questo per dire che cosa? Tutto questo per dire che nel 2020 i segni immobili, la Vergine e i pesci, soprattutto nella seconda metà dell'anno e in questi primi mesi, anche se sono stati così affannati dal lockdown, i gemelli e i pesci, scusatemi, i gemelli e il sagittario adesso, in questi prossimi quattro mesi, cominciano davvero ad avere il primo Saturno favorevole da molti anni a questa parte. La Vergine ha un cielo che le consente di tornare all'origine di un disordine con il quale si confronta sin dal 2012 e riaggiustare una serie di cose, ma poi soprattutto ricoltivare, riprendere in mano alcune ambizioni personali che negli ultimi anni sono state inevitabilmente accantonate perché c'era sempre qualcuno o qualcosa che creava un problema prima e quindi c'era sempre qualcosa da sistemare prima di poterli riprendere finalmente in mano. E quindi dicevamo, questo Saturno del 2020, sia per la Vergine e per i pesci da un lato, sia per i gemelli e per il sagittario dall'altro, in momenti differenti, rappresenta il Saturno di stabilizzazione che finalmente permette di tornare su quel percorso iniziato nel 2012 in maniera più stabile, in maniera più solida. Soprattutto i gemelli e il sagittario, ci tengo a dirlo, hanno il primo Saturno di sostegno da tanti tanti anni a questa parte, dal 2011 a questa parte. I gemelli se lo sono quasi dimenticato che cosa significa avere un Saturno a favore, un Saturno che stabilizzi, un Saturno che permetta per i gemelli di colmare le lacune e di ripartire da un terreno non dissestato. Lacune economiche, lacune finanziarie, lacune di formazione, debiti formativi. I gemelli in questi prossimi mesi, ma già lo stanno facendo, stanno stuccando tutte le buche del loro terreno, a volte rottamando una cartella, risistemando certe questioni di debiti, risistemando certi requisiti che gli mancano per fare quello che vogliono fare. Penso a chi vuole aprire un'attività, la licenza, le autorizzazioni, gli affidamenti. Stanno lavorando proprio alle basi di una nuova partenza. Questo vale per il sagittario che si sta riprendendo la rivincita per tutto ciò che gli è stato portato via negli scorsi cinque anni e non è poco e così facendo riesce a consolidare delle basi, delle fondamenta che è dal 2012 che si sono fatte più liquide. Questo riguarda i pesci che cominciano finalmente a sentirsi più forti in una posizione che finora ha mostrato solamente gli aspetti più delicati, gli aspetti più difficili, quelli della paura di sbagliare, quelli dell'impegno, della responsabilità, della paura di non essere all'altezza. Per cui questo è un anno in cui appunto questo Saturno consolida e fa ripartire. In particolare per la Vergine e per i pesci è un Saturno che consolida finalmente una posizione che comincia ad andare a regime in modo più stabile. Per il sagittario e per i gemelli è un Saturno che permette di ripartire. Quindi ovviamente in questo momento c'è poco da partire perché c'è il lockdown, ma credetemi da qui ai primi di luglio, i gemelli ed il sagittario di strada ne faranno tantissima. Se negli scorsi cinque anni sono andati avanti con il tiro con il freno a mano inserito e con la zavorra, quindi a un passo gli sembrava di muoversi di mezzo passo, adesso il passo si fa molto più veloce, si fa molto più scorrevole. E lo stesso riguarda i pesci e la Vergine, dove però diciamo che questo è un momento più di passaggio e le grandi soddisfazioni arriveranno tra l'estate e l'allunno. Allora, è stata una diretta fiume anche questa. È chiaro che certe cose mi sono uscite esattamente come le volevo dire, certe altre mi sono uscite con un po' più di sbavature perché poi è difficile diciamo tenere la concentrazione per due ore, però quello che vi volevo dire più o meno è uscito. Se volete altri approfondimenti, Saturno in acquario in termini generali e segno per segno è uscito anche sul sito, è uscito su Facebook, su Instagram, quindi lo potete recuperare e rileggere. Ovviamente se avete il libro oppure se non ce l'avete, quello rappresenta indubbiamente la summa e quindi insomma andatevela recuperare. Ci sono tantissime persone che mi stanno scrivendo, che l'hanno appena preso da Kindle in ebook in qualunque modo perché chiaramente adesso le spedizioni sono un po' più faticose, però ci sono moltissime persone che proprio in questi giorni mi stanno dicendo ho letto il tuo libro, non ce l'avevo, mi sta appassionando. Per un libro che va, un libro che viene, oggi ho cominciato l'introduzione di Oroscopo 2021, quindi sono strafelice di tutto questo. Solamente riascoltando la Bedrosse, grossomodo ho detto tutto quello che volevo dire. diciamo che questo nuovo Saturno è un Saturno in acquario, l'acquario è il segno del progresso, è il segno dell'innovazione, ha tutti e 12 segni, li prende per mano e li porta a fare quel passo in più. Gli scorsi anni con Saturno in Capricorno sono stati rigore, responsabilità, impegno, costruzione, lentezza. Adesso questo Saturno in acquario significa prendere coraggio, andare più veloce, fare dei passi più decisi, fare dei passi più significativi, ma soprattutto per i segni mobili, ecco qui chiudo, significa uscire da 5 anni che li hanno smontati pezzo per pezzo perché sulla spia, sul cruscotto della loro macchina si era accesa una spia che diceva caos. Sono tornati all'hangar, Saturno l'ha fatti accostare, l'ha rimandati in officina, l'ha smontati un pezzo per volta, l'ha ricostruiti dolorosamente, gli ha dato una carrozzeria molto più forte, gli ha dato uno sterzo che controlla di più la direzione e gli ha dato una migliore tenuta di strada. Oggi tutti e quattro i segni mobili ritornano con questa carrozzeria più forte ad un desiderio che rincorrono dal 2012 e finalmente hanno quel veicolo giusto per rincorrerlo, per cui questo sarà un anno che consolida certe posizioni ma li rimette anche sulla strada di un desiderio che rincorrono da tempo e ce li con maggiore certezza, con maggiore sicurezza. Allora, io vado a cena sempre più tardi, mi raccomando se vi è piaciuta condividetela, parlatene in giro, parlatene agli amici, gli zii, i nipoti, i cugini, parlatene. Se non vi è piaciuta, come diceva Casma, fatevi gli affari vostri e non lo dite in giro. Se avete voglia di approfondire un altro po', leggete l'approfondimento che c'è sul sito o meglio ancora leggere il libro. Domani, non lo so, forse salto perché ho bisogno di recuperare un po' di energie e noi ripartiamo con la scuola mercoledì con la settima casa, naturalmente qui su Facebook alle 21.15. Vi voglio bene, è stata per me, è stata bellissima, spero di essere stato all'altezza di quello che mi riproponevo di fare. Mi scuso se ho bevuto dalla bottiglia, lo so che è inelegante, però è molto molto complicato, anche perché per terra c'ho il pavimento, quindi è molto difficile. Grazie mille, mi fate, come dice Melvin di qualcosa è cambiato, mi fate venire voglia di essere ogni giorno migliore. Vi voglio bene, grazie. Ciao Samut, ho visto, ti voglio bene. Ciao a tutti, grazie. Grazie a tutti.